Amici 22, anticipazioni seconda piccolo G, ballottaggio cricca Gianmarco. Si è svolta la seconda registrazione del serale di Amici 22, giovedì 23 marzo, infatti. Maria De Filippi ha condotto l'appuntamento che sarà trasmesso in tv sabato 25 a partire dalle ore 21 e 30 circa. Le anticipazioni che stanno trappelando dagli studi Elios, fanno sapere che la gara è stata avvincente e che i tre giudici hanno emesso importanti verdetti, c'è stata una doppia eliminazione. Ma il pubblico conosce il nome di uno solo degli allievi che hanno dovuto abbandonare il programma, piccolo G fuori definitivamente, in bilico cricca e Gianmarco. Il serale di Amici è arrivato al suo secondo appuntamento, nel tardo pomeriggio. Infatti, è stata registrata la puntata che il pubblico di Canale 5 potrà vedere sabato prossimo. Il meccanismo della gara è stato lo stesso di sempre, una delle tre squadre del cast ha dato il via ad una partita lunga ed avvincente, al termine della quale sono state ufficializzate due eliminazioni. Già dopo la prima manche, infatti, un allievo ha dovuto lasciare la scuola perché nessuno dei giudici l'ha salvato, una settimana fa è toccato a Megan interrompere l'avventura nel talent show dopo un solo giro di esibizioni. Il 23 marzo è stato il turno di piccolo G. Il team che è uscito sconfitto dal primo dei tre confronti della serata, dunque.